Mentre eravamo intenti a guardare questa spalliera, qui abbiamo puntato questi tre funghetti, eccole qui, uno, due, e poi ce n'è un altro in mezzo alla radice, ecco, è ancora buono, vero? Sì, qualcosa ci riesco, anzi, dai, va bene, ciao! E raccogliamo anche questo, un giocchiato, però, bellino, fresco. Ma lo lascio qui, dai, piccolo. Ciao, funghetto. Buon ciottino. Lo puliamo. Garbatino, garbatino. Eddio. Vai. Bello fresco, eh. Ho attaccato le radici, grazie. E lì mi sta nascendo un altro, forse. Vediamo, è buccato. Poverino, non ce l'ha affatto, questo. Una bella foto, questo, un vettino, bello fresco, se la merita, dai. Buon ciottino, non ce l'ha affatto. Lo vediamo. Boccioletto, vedete, è fatto. Si gira, eccolo qui, sotto la pioggia, che c'è sorpresi, in un canorone. Il lumachino, c'era il lumachino, il papagnotto dell'erba, c'è tutta l'erba. E' lui o non è lui? E' lui, è lui. Andiamo da lontano, ci avviciniamo, dai. Andiamo a raccogliere. Non cadere, che qua è bello ripido. E' un bello fresco. E' un bello, bello, no? Altro bocciottino. Bocciottino, bocciottino. No, qua è uno là. Mangiocchiato. Ancora prendibile. Dov'è nato questo? Tronco, tronco, proprio in mezzo alle radici. In mezzo al tronco. Non si riesco a non romperlo. Eccolo qua. E mi sa che questo è l'ultimo, ragazzi. Uno qua, uno là, molto rari. Guardate qua, in questo canalone qui, guardate un po', eccolo qua. Vedete, vedete, il crinatino proprio attaccato al canalone. Un bel fungo. Un bel fungo. Un bel fungo. Ed ecco in un altro, siamo verso la fine della battuta, abbiamo iniziato a scendere. Però qualcuno nei faggi qui, eravamo arrivati fino agli abeti in alto. Nei faggi qualcuno ancora si trova, dai. Nel frattempo stava ancora piovigginando, ma siamo al riparo dei faggi. Questo è bello. Una bella boccetta, guardate. Oh, stava per cadermi. Bello, bello. Ok, dai. Ok, dai. Allora, amici, ecco il raccolto finale. Oggi è il... Il giorno è oggi. Ed è il 16. 16 settembre, mi pare. Nota. Speriamo di non sbagliare il giorno, no. Non è il 15, no, il 16, sì. Nota? La nota veramente positiva è che sta piovendo. Sta pioendo. Sì, infatti, guardate un po', siamo al riparo dei noccioli qui. Sì, abbiamo finito adesso, il pomeriggio. Che ore sono? Sono le sei e mezza. Due o tre ore. Due o tre ore. Ci ha accolto la pioggia. I fondi sono molto radi, ma, fortunatamente, in qualche angolo, qualcosa in alto, ragione. Bene, dai, allora, speriamo nei prossimi giorni, dopo quest'acqua, vediamo, vediamo, se potremo trovare qualcosa di carino. In teoria, dovrebbero cominciare a muoversi, dai. Alla prossima. Un saluto a tutti, da me e dall'amico Riccardo. Ciao.